Lotto numero 554, questo mobile bar con struttura in legno di acero e pannello con decore e cristallo specchiato attribuito ad Osvaldo Borsani degli anni 40, 1200 euro confermati al banco. 1.002 banco, 1.003 fiola, aspetto 1.004 da Alessandro, 1.004 Alessandro, 1.005 fiola, aspetto 1.006 orietta, aspetto 1.007 fiola, aspetto 1.008 orietta, aspetto 1.009 fiola, 1.9 fiola, aspetto 2.000, aspetto 2.000 orietta, 2.000 orietta, aspetto 2.100, 2.100, Alessandro, aspetto 2.2, 2.2 fiola, aspetto 2.3, 2.3 orietta, aspetto 2.4, 2.4 fiola, aspetto 2.5, 2.5 orietta, aspetto 2.6, aspetto 2.6, 2.5, 2.6 fiola, aspetto 2.7, aspetto 2.7 orietta, 2.7 orietta, 2.8 fiola, 2.8 fiola, aspetto 2.9, 2.9 orietta, aspetto 3.000, 3.000 fiola, aspetto 3.2, 3.2, 3.2, 3.2 orietta, aspetto 3.4, aspetto 3.4, 3.4 fiola, aspetto 3.6, aspetto 3.6, 3.6, 3.6, alessandro, aspetto 3.8, aspetto 3.8, 3.8 orietta, aspetto 4.000, aspetto 4.000, orietta 3.8, 4.000, 4.000, orietta 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 4.000, 4,8 Alessandro aspetto 5 mila 4,8 Alessandro aspetto 5 mila 5 mila Orietta aspetto 5 e 5 aspetto 5 e 5 5 mila Orietta aspetto 5 e 5 5.000 orietta, 5.000 per la prima, 5.000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3 orietta tuo lotto numero 580 Mario Gottardi e questa coppia di poltroni in legno curvo e sky imbottito degli anni 50 sono pubblicate sulla loi esempi di arredamenti moderni di tutto il mondo sedie, poltrone e divani, viene messa in gara, siete collegate? Eleonora, Veronica e Sofia ci siete? Eleonora mi dai un cenno? Aspettiamo un istante poi partiamo Ci sei anche tu? La risposta è sì? Tu sei al posto di Eleonora? Ok, chiamiamo di nuovo Io intanto mi riposo un istante Neanch'io, a me non è dato di sapere Ok, lotto 580 Mario Gottardi, coppia di poltroni in legno curvo e sky imbottito 1.800 euro offerti al banco 1.800 banco 1.800 banco Chi offre 1.900? 1.900 Veronica? No 1.900 sala 1.900 sala 1.900 sala 2.000 Sofia Chi offre 200? 200 sala 2.2 Aspetto 2.2 Emanuele 2.2 Emanuele 2.3 2.3 2.3 2.4 Sofia Aspetto 2.5 2.5 Emanuele Aspetto 2.6 2.6 Sofia Aspetto 2.7 2.7 Emanuele Aspetto 2.8 2.8 Sofia Aspetto 2.9 2.9 Gabriele 3.8 3.8 Sala 3.8 Sala 3.8 Sala Aspetto 3.100 3.2 Scusate Devo fare il rilancio 3.2 Eleonora 3.2 Eleonora Aspetto 3.4 Aspetto 3.4 3.4 Emanuele Aspetto 3.6 3.6 3.6 Eleonora Aspetto 3.8 Aspetto 3.8 3.8 confermati Aspetto 4.000 Aspetto 4.000 3.8 in fondo 3.8 per la prima 3.8 per la 4.000 Sala Aspetto 4.2 Aspetto 4.2 4.000 per la prima 4.2 4.2 per la prima 4.2 per la seconda Se non vedo altre offerte aggiudico a 4.2 Aspetto 4.4 4.2 per la prima 4.2 per la seconda 1.2 1.2 Lotto numero 603 Oscar Torlasco 392 questo lampadario in ottone degli anni 50 500 euro banco 500 banco Aspetto 5.50 5.50 Web Aspetto 600 600 Marco 600 Marco 600 6.50 Web 700 Marco 700 Marco 700 Marco 750 il giovane in fondo 800 Fiola 8.50 Fiola 900 Fiola 9.50 Fiola 1000 Fiola 1100 Fiola 1200 Fiola 1300 Fiola 1400 Fiola 1400 Fiola 1500 Fiola 1500 Fiola 1600 Fiola 1600 Fiola 1700 Fiola 1800 Fiola 1800 Fiola 1900 Fiola 1900 Fiola 1900 Fiola 2000 fiola, 200 fiola, 22 fiola, 23 fiola, 24 fiola, 25 fiola, 26 fiola, 27 fiola, 28 fiola, 29 fiola. 3000 fiola, 3000 fiola, 32 fiola, 34 fiola, 34 fiola, aspetto 36, 36 fiola, aspetto 38, 38, 36 fiola, aspetto 38, 36 fiola, 36 fiola, 36 fiola, 36 fiola, io vedo 38, 38, no perché non capisco se possono fare le offerte, va bene, 38 fiola, 38 fiola, 38 per la prima, 38 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a fiola, 3008, 38 per la prima, 38 per la seconda, 38 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 fiola, 38, Carlo De Carli, 802, 3 poltroncine prodotte da Cassina negli anni 50, 35 da confermare al banco, 35, base d'asta di 3.500 euro, 35 di base d'asta, 669, 3, 5, perfetto, 3, 5, 3, 6, 3, 6 web, aspetto 3, 6, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, la signorina Orietta, va bene, non ha importanza, succede, 3, 7, orietta, 3, 7, orietta, 3, 7, orietta, chi offre 3, 9? Va bene, 3, 7, orietta, aspetto 3, 9 da Johnny, 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 mi offri 3, 9? 3, 9, Johnny, aspetto 4, 100 da orietta, sì, è amore mio, io sono così adesso, 4, 100 orietta, 4, 3 da Johnny, 4, 3 confermato Johnny, 4, 5, 4, 5, orietta, 4, 5, 4, 5, orietta, 4, 7, Johnny, punto di domanda, interrogativo, 4, 7, interrogativo, devi farmi 4, 7, Johnny, sì, sì, mi dovresti offrire 4, 7, 4, 7, 4, 9, orietta, orietta, 4, 9, 4, 9 orietta, ok, 5, 100 Johnny, mi offri 5,000, 5, 5, 5, 5 orietta, fai quello che ti dico, 5, non facciamo troppe discussioni in sto posto, 5, 5, ok, 5, 5, mi offri 6,000 Johnny, aspetto 6,000 da Johnny, 6,000, 6, 5 orietta, 6,000 orietta, no, più o meno, 5, 5 e di, scusami, 6,000 Johnny, 6,500, perfetto, 6,500 orietta, 7,500 orietta, 7,500 orietta, più o meno, 7,500 orietta, 8,500 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 or 8000, 1, 2, 1, 2, 3. Claudio Salocchi, libreria da centro girevoli in legno laccato e ante in acciaio satinato. Emanuele, lotto numero 737, sostegno centrale in metallo laccato, modelle con ante sonorizzate, pubblicato sul Gramigna, viene messo in gara a 1500 euro, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 euro per varie offerte ricevute al banco. 2000, 22, quanto mi fai Emanuele? 3000, 3000 Emanuele, 3 e 2, 3436 per varie offerte ricevute al banco, 38 Fiola, 38 Fiola, 4000 Doriana, 4000 Doriana, aspetto 42 Fiola, 4 e 4, 4 e 4 Doriana, 4 e 6 Fiola, 4 e 8 Doriana, 4 e 8 Doriana, 4 e 8 Doriana, 4 e 8 Doriana per la prima, 4 e 8 Doriana per la seconda, 5000, 5000 Sant'Agostino, 5000 Sant'Agostino, 5000 Sant'Agostino, aspetto 5000 Doriana, 5 e 5 Doriana, 5 e 5 Doriana per la prima, 5 e 5 Doriana per la seconda, 6000 Web Sant'Agostino, 6000 Sant'Agostino, aspetto 6 e 5 da Doriana, 6000, 6000 Sant'Agostino, 6000, aspetto 7 e 5, aspetto 7 e 5, aspetto 7 e 5, aspetto 7 e 5, 7 e 5, 7 mila Sant'Agostino Web, 7 e 5, 7 mila Sant'Agostino Web, 7 e 5, aspetto 8 e 5, aspetto 8 e 5, 8 mila Sant'Agostino Web, 8 mila, 8 mila Sant'Agostino Web, 8 mila, 8 mila per la prima, 8 mila per la seconda, 8 mila, 8 mila, 1, 2, 1, 2, 3 Sant'Agostino Web, Angelo Mangiarotti, sempre Eros, in questo caso parliamo della console, in marmo, grigio e bianco, protaschi per 1971, 2.005 Emanuele, 2.005 per il banco, 2.005 Emanuele, 2.007, 2.009, 3.002, 3.006, 3.006, 4.000 per me, 4.002, 4.002, mi fermo, Eleonora mi fai 4.004, 4.004, 4.006, 4.008, 5.000, 5.005, 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 5. Seconda, mi offri 6.000 Eleonora? 6.000 web, 6.005 sala, 6.005 sala, aspetto 7.000, 6.005 sala, 7.000, 7.000, 7.500, 7.500 sala, aspetto 8.000, 7.500 sala per la prima, 7.500 sala per la seconda, 7.500 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 793 Mimmo Paladino, Res e Oro e la coppia di sedia in acciaio cromato e acciaio ramato, prototipo per Zanotta, 1988, 4.000 euro la base d'asta da confermare, 4.000 confermati in sala, 4.000 sala, aspetto 4.2 dal telefono, 4.4 sala, 4.4 sala, aspetto 4.6 dal telefono, 4.6, 4.8 sala, aspetto 5.000 dal telefono, 5.000 telefono, aspetto 5.5 dalla sala, 5.5 sala, aspetto 6.000 dal telefono, 6.000 telefono, 6.500 sala, aspetto 7.000 dal telefono, 7.000 telefono, 7.500 sala, aspetto 8.000 dal telefono, 7.500 sala, 8.000 telefono, 8.500 sala, 8.500 sala, 8.500 sala, 8.500 sala, aspetto 9.000 dal telefono, 9.500 telefono, 9.500 sala, 9.500 sala, aspetto 10.000 dal telefono, 9.500 sala, 9.500 sala, per la prima, per la seconda, 1.2, 391, grazie. Lotto numero 819, Carlo Scarpa, vaso con decoro a fili, 1.942 circa, viene messo in gara, 6.600, 6.500, 6.500 umberto, aspetto 7.000 dai telefoni, 7.000 web, 7.500, 7.500, 7.500, 7.500 sala, 7.500 sala, 7.500 sala, 8.500, 8.500 sala, 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 11 web, aspetto 12 ombretta, 12 ombretta, aspetto 13, 13 web, aspetto 14, 14 sala, sala 14, 15, mi offri 15 ombre? 15 web, 15 web, 16 sala, 16 sala, 16 sala, 17 Sofia, 17 Sofia, 17 Sofia, aspetto 18, 18 web, 18 web, aspetto 19, 19 Sofia, aspetto 20, 19 Sofia, 19 Sofia, 19 Sofia, 19 Sofia per la prima, 20, 20 ombretta, 20, 20 ombretta, 20, 20 ombretta, aspetto 21, 21 Sofia, 21 Sofia, aspetto 22, 21 Sofia, 21 Sofia, aspetto 22, 21 Sofia per la prima, 21 Sofia per la seconda, 21, 1, 2, 1, 2, 3, 825, Gio Ponti, divano con imbottitura rivestita in tessuto e supporti in metallo degli anni 50, prodotti da Isa, 22, 1, 2, 1, 200 euro la base d'assa da confermare, 1, 2, 2, web, aspetto 1, 3, dai telefoni, 1, 3, Doriana, 1, 4, 1, 4, 1, 4, web, 1, 5, Marco, 1, 6, web, 1, 6, web, 1, 6, web, 1, 7, Doriana, 1, 7, 1, 8, web, 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 1, 9, 1, 9, quanto? 2000 Doriana, 2000 Doriana, 2000 Doriana, aspetto 200, 200 Marco, aspetto 2, 2, 2 Gabriele, 2, 2 Gabriele, aspetto 2, 3, 2, 3 Marco, aspetto 2, 4, 2, 3 Marco per la prima, 2, 3 Marco per la seconda, 2, 3 per la prima, 2, 4 web. 2, 4 web, 2, 5 Marco, 2, 5 Marco, aspetto 2, 6 web confermati, 2, 6 confermati web, 2, 7 Marco, 2, 7 Marco, 2, 8 Fiola, 2, 8 Fiola, 2, 9 Marco, 2, 9, 3,000, chi fa 3 e 2? 3,000 web, aspetto 3, 2, 3, 2 Marco, 3, 2 Marco, aspetto 3, 4 web confermati, 3, 4 confermati web, aspetto 3, 6, 3, no 3, 4 già fatto, 3, 6 Marco, 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 Aspetto 4, 4, 6 Marco, aspetto 4, 6 Marco, aspetto 4, 4, 6 Marco, 4, 6 Marco, 4 e 6 Fiola, 4 e 6 Fiola, aspetto 4 e 8 Marco, 4 e 8 Marco, aspetto 5 mila, 5 mila Fiola, aspetto 5 e 5, Chiara può intervenire? 5 mila Fiola, 5 mila Fiola, aspetto 5 e 5, 5 mila Fiola, 5 mila Fiola per la prima, 5 mila Fiola per la seconda, 5 mila, 1, 2, 1, 2, 3, Fiola, tuo 5 mila. Lotto numero 826, Gio Ponti, coppia di poltrone, rivestita in tessuto, anni 50, prodotti da Isa, 1.800 la base d'Ars, sta da confermare, Umberto, Doriana, Gabriele e Sofia, chi è che mi cons... Doriana, confermati 1.800, 2 mila Marco, 2 mila Marco, aspetto 2, 2, 2, Doriana, 2, 3, Fiola, 2, 4, il giovane in fondo, 2, 5 e Fiola, 2, 6 Fiola, 2, 7 Fiola, 2, 8 Fiola, 2, 9 Fiola, 3 mila Fiola, 3, 100 Fiola, 3, 2, 3, 2 Fiola, 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 aspetto 3, 4, 3, 4, 3, 4, Gabriele, 3, 3, 6, chi offre 3, 3, 6 Fiola, aspetto 3, 8, 3, 8, 3, 8 Marco, aspetto 4 mila, 3, 8 Marco, 4 mila Fiola, aspetto 4 e 2, 4 e 2 Marco, 4 e 2 Marco, aspetto 4 e 4, 4, 4 e 2 Fiola, aspetto 4 e 6, aspetto 4 e 6, 4 e 6 Marco, 4 e 6 Marco, 4 e 6 Marco, 4 e 6 Marco per la prima, 4 e 8 Fiola, aspetto 5 mila, 5 mila Marco, aspetto 5 e 5, 5 mila Marco, aspetto 5 e 5, 5 e 5 Marco, 5 e 5 Marco, 5 e 5 Marco, aspetto 5 e 5 Marco, 7 mila Marco, 7 mila Marco, 7 mila Marco per la prima, 7 mila Marco per la seconda, 7.000, 1.2, 1.2, 3. 858, Gino Sarfatti, 10.86, Lampada da Terra, 1961 l'anno di produzione. 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, Elisabetta, aspetto 2.9 dai telefoni. 2.9 Marco, aspetto 3.000 dai telefoni. 3.000 Elisabetta, aspetto 3.2, 3.2 Marco, aspetto 3.4. 3.4 Elisabetta, aspetto 3.6 Marco, aspetto 3.8, aspetto 3.8, dovete chiamare un po' prima, 3.8, aspetto 3.6 Marco, 3.6 Marco, 3.8 Umberto, aspetto 4.000 Marco, aspetto 4.2, aspetto 4.2. 4.2 Claudio, aspetto 4.4 Marco, 4.4 Marco, aspetto 4.6 Marco, 4.6 Claudio, 4.8 Marco, aspetto 5.000 5.5.1 Africa, 4.3 Marco, 3.7 Marco, 4.6 Marco, 6.5 Marco, 6.5 Marco, 5.6 Marco, 4.3 Marco, 4.4 Marco, 5.5 Marco, 4.4 Marco, 5.5 Marco, 5.5 Marco, 5.6 Marco, 4.3 Lucas, 7.000, 7.000 Claudio, aspetto 7.500, 7.000 Claudio, aspetto 7.500, 7.500 Marco, 7.500 Marco, 7.500 Marco, solo un secondo è caduta l'Emilia. 7.500 Marco, 7.500 Marco, 7.500 Marco per la prima, 7.500 Marco per la seconda, 7.500 Marco, 7.500 Marco, eh lo so, protesta io non so veramente cosa vi devo fare, è caduta la linea, 7.500 Marco, è caduta la linea, si è fatta male, cosa rileggo? 7.500 Marco, 7.500 Marco, 7.500 per la prima, deve fare 8.000, deve fare 8.000, 7.500 Marco, 7.500 Marco, 7.500 Marco, 8.026, Davide Boriani, superficie magnetica, scultura cinetico-visuale, campo magnetico, metallo, limature in ferro, Milano 1967, edizione Olivetti fuori commercio, esemplare 35 su 50, viene messo in gara 600, 650, 700, 75, 2.6? Ah, perfetto. 1.6, Sant'Agostino Web, 1.7, sala? 1.8, telefono, 1.9, sala? 1.9, 2.100, sala? 2.100, sala? 2.100, sala? 2.100, sala? 2.2, fiola? 2.3, sala? 2.3, sala? 2.4, fiola? 2.5, sala? 2.5, sala? Aspetto 2.6, 2.6, chiara? 2.7, sala? 2.7, sala? 2.7, sala? Aspetto 2.8, 2.8, chiara? 2.9, sala? 2.9, sala? Aspetto 3.000, 3.000, fiola? 3.2, sala? Aspetto 3.4, aspetto 3.4, aspetto 3.4, 3.2, sala? 3.2, sala per la prima, 3.2, sala per la seconda, 3.6, dunque, 3.4, scusi, 3.6 davanti, 3.6 davanti, 3.8 dietro, 4.000 davanti, 4.2 dietro, 4.4 davanti, 4.6 dietro, 4.8 davanti, 5.000 dietro, 5.5 davanti, 5.5 davanti, 5.5 sala, 6.000 dietro, 6.5 davanti, 6.5 davanti, 7.000 dietro, 7.5 davanti, 8.000 dietro, 8.00 e 5 davanti, 8 e 5, 9 mila dietro, 9 mila dietro, 9 mila in fondo, 9 mila e 5 davanti, 9 mila e 5, 10 mila, 10 mila euro dietro, 10 mila dietro, 10 mila dietro, 10 mila, i telefoni mi fanno 11, 11 davanti, 11 davanti, 11 mila euro per la prima, 11 mila euro per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a 11 mila euro, 11 mila per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 11 mila euro sua, 290, complimenti. Grazie